Ciao a tutte ragazze, oggi in questo video vi racconterò la mia esperienza con il sito Bliss Booker. Il sito è stato così gentilissimo da offrirmi questa collaborazione, loro sono stati gentilissimi con me e devo dire che il sito in sé offre una vasta scelta. Vi spiego di cosa si tratta, praticamente il sito vi dà la possibilità di prenotare dei trattamenti che possono essere i capelli, unghie, massaggio, epilazione, viso, qualsiasi tipo di trattamento presente all'interno del sito, diviso per categorie. Una volta inserita la città trovate per quel trattamento tutti i centri presenti appunto nella vostra città che offrono quel servizio che voi avete cercato. Potete tranquillamente prenotare dal sito in qualsiasi ora, per il pagamento potete pagare direttamente al sito. Io devo dire che mi sono trovata benissimo perché è molto molto comodo, voi potete tranquillamente prenotare da casa vostra in qualsiasi momento. È stata un'esperienza davvero particolare. Il sito è stato così gentile da darmi un codice sconto che vi lascio qui e giù nell'info box. Se volete appunto prenotare il vostro trattamento e provare anche voi questa esperienza come ho fatto io, avete il 50% di sconto che è davvero un'ottima occasione. Per quanto mi riguarda ho scelto il trattamento colore, quindi mi sono affidato a un parrucchiere e ho scelto tra quelli presenti il parrucchiere Brera 13 a Milano. Mi sono trovata molto bene, trovo che questo sito sia comodissimo, vi dà la possibilità di vedere tutti i prezzi, perché è una cosa molto importante. Molte volte, magari, non so se anche a voi capita, però vi ricate in un nuovo parrucchiere, magari vi prende anche male chiedere il prezzo di un determinato trattamento. Qui invece trovate tutto il listino prezzi sotto l'attività che voi scegliete, quindi praticamente sapete benissimo, in base al vostro budget, quale anche salone scegliere. Potete anche cercare delle recensioni online se non vi fidate del salone o meno, ma comunque già visitando il sito internet del salone riuscite un po' a capire che genere di lavori fa. Io vi lascio dunque alla mia esperienza, al mio cambiamento, spero che questo video vi piaccia. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!